Davide Di Giacinto, assessore al bilancio, dopo l'adozione del factoring arriva il fondo per pagare gli interessi passivi alle imprese? Sì, è uno strumento aggiuntivo rispetto al factoring, con questo noi andiamo a pagare gli interessi che chiaramente le imprese dovrebbero pagare le banche per accedere al factoring. In un momento di crisi come questo abbiamo trovato un metodo per poter dare uno strumento aggiuntivo, quindi per dare un sussidio maggiore alle imprese che hanno bisogno evidentemente perché lo strumento del factoring è sì buono però ha bisogno di un supporto aggiuntivo. È un primo strumento che si aggiunge rispetto a quello del factoring e ne stiamo già studiando un altro perché questo è a valere sul 2011, quindi sugli ultimi tre mesi del 2011. Attraverso il fondo di 50.000 euro noi andremo a coprire anticipazioni su factoring per circa 4 milioni e mezzo di euro. Sul 2012 invece stiamo già studiando un'altra formula e penso che potremo rendere nota nelle prossime settimane.